Amici dello sportello del cittadino, ci troviamo a Taranto, alle spalle della concattedrale Gran Madre di Dio, nell'area compresa tra le vie Blandamura e il tratto, il pezzetto di via Ancona. Vedete un lago al mio fianco, letteralmente, basta un po' di pioggia e considerando ovviamente l'aria, la superficie, completamente sterrata, è ovvio che si verifichi questa situazione. Cerchiamo innanzitutto di comprendere le ragioni per le quali quest'area giace così abbandonata e non si possono, almeno dalle notizie che ho raccolto, non si possono effettuare lavori. Pare che ci sia un contenzioso circa la proprietà di quest'area e quindi questa situazione, uso il condizionale, prendete con le pinze quello che sto dicendo, pare che questa situazione di incertezza giuridica e giudiziaria comporti lo stallo, la paralisi di ogni tipo di lavori. Certo è che l'amministrazione comunale deve riuscire a venire a capo di questa situazione perché non è possibile che in una zona centralissima di Taranto, alle spalle della concattedrale, ci si imbatta in un acquitrino. È un'area che è stata così trasformata, diciamo, alla bella e meglio in una sorta di parcheggio e oltretutto non si può camminare perché basta attraversare la strada, una macchina, più macchine ovviamente transitano e chiaramente l'acqua schizza. Basta che una macchina tocchi poco poco una pozzanghera e tu ti fai un bel bagno. Questa è la situazione. Allora cerchiamo di comprendere, l'amministrazione comunale deve intervenire in qualche modo, bisogna prendere alla radice, all'origine la situazione e vedere nell'emore del procedimento giudiziario cosa fare perché all'area bisogna conferire un minimo di vivibilità. Guardate, un lago, per non parlare poi, e lo vedete lì dove sto indicando, l'incrocio, la curva a gomito pericolosissima con macchine che sbucano è che veramente una partendo da un lato e l'altra partendo dall'altro lato ovviamente finiscono per cozzare e spesso si sono verificati pericolosissimi incidenti frontali. Ma al di là di questo, che è pure importantissimo e gravissimo, vedete, siamo in città, non in una zona periferica, in una palude, in un acquitrino. Vergogna, vergogna alle spalle della meravigliosa struttura di Gioponti, della vela di Gioponti, alla faccia della cultura, alla faccia dell'arte. Questo è il degrado che ci offre Taranto. Sindaco, Assessore ai lavori pubblici, proprio ve lo chiedo a nome di centinaia e centinaia di cittadini. Poniamo fine a questo scempio.